buongiorno cari amiche oggi vi voglio proporre dei completi tutti in cotone cotone gillo quel cotone bello morbido che di solito amate molto tutto rigato cioè dei completi per la vostra nascita e il bimbi fino ai 2-3 anni tutti rigati come vedete anch'io ho addosso una felpa sempre in cotone gillo di questo brand italiano dove l'ho abbinato a questo pantalone che abbiamo qui appunto in negozio disponibile molto largo e le consuete sneakers animalier allora partiamo con un completino una felpina con collo a serafino vedete il cotone super elastizzato con questo contrasto di burro e questo verde salvia dove possiamo abbinarlo a un pantaloncino ghettina sempre con i due bottoncini finali sempre in questa tonalità di colore ecco oppure ci mettiamo sopra una felpina così leggermente svasata sul fondo però adatta sia al maschio che alla femmina in questa tonalità di colore dove abbiamo poi anche l'eventuale vestitino quando l'abitino nei 3-6 mesi diventa piccolo potete usarlo nella taglia anno come felpina sempre con la sua ghettina o calzino oppure andiamo con le culotte le culotte tra l'altro bellissime da usare sia con le collante o i calzettoni neri o in contrasto le culotte vi dicevo tra l'altro ci sono disponibili anche nei colori total nero oppure total white qui ci abbiniamo o il suo completino come vedete della felpina vedete così elasticizzata che questa poi può essere abbinata nel maschietto o anche nella femminuccia col suo pantaloncino con le pants in questo caso oppure con la ghettina quindi culotte felpina pantaloncino oppure la ghettina sempre elasticizzata in questo morbido cotone felpatino e vi propongo anche il suo golfino che può essere anche un mini abito guardate com'è bello nella manica tutto intero tra l'altro questo brand ha dei prezzi molto molto buoni e guardate che bello anche l'abbinamento con il cardiganino e la sua culotte quindi proprio proprio carino insieme poi andiamo invece in cose molto pratiche quindi più jogging vedete quindi la tuta così stondata sul fondo elasticizzata disponibile in questo colore io rigato perché il tema di oggi è la riga ma in realtà lo potete trovare anche tutto total cammello sabbia oppure tutto verde acqua molto bello anche nella tonalità del verde guardate che simpatica anche la taschina col marsupio proprio davanti oppure andiamo in questi completini tutti rigati nei colori naturali quindi nel sabbia rigato burro con il suo pantaloncino la sua ghettina con il cavallo sceso vedete che simpatico con la magliettina asciutta e il cavallo sceso il pantalone questa tonalità ve la faccio all'incontrario cioè troviamo praticamente la maglietta non più sabbia con la riga burro ma burro con la riga sabbia ecco così e il pantaloncino sempre cavallo sceso con i due bottoncini poi loro prevedono addirittura due giri vedete sotto sul fondo quindi li usate veramente tanto per tutto l'inverno fino a primavera andiamo poi invece con la felpina così con il contrasto del colore tortora nella parte sopra in blu è un blu melange un po blu black da abbinare sempre al pantaloncino col cavallo sceso in questo caso rigato burro vedete tortora e blu quindi molto carino anche il contrasto se non vogliamo fare tutto riga questa volta non la riga sopra ma la riga nel pantalone un altro brand invece italiano che vi propone o la tutona intera in questo caso con i due tasconi vedete così di velluto sopra oppure in cotone sopra oppure con il suo pantalone con la tasca sempre a coste dietro che ve la propongo con la maglia quindi la sua felpina sempre elasticizzata e questa come vedete lo stesso completo che addosso indosso io oggi e dove possiamo trovare anche il berretti cioè i cappellini le cuffiette e gli scaldacollo vi termino con questo uno in più in famiglia uomo in famiglia la t-shirt mentre il la tutina qui salopette è di un altro brand italiano dove ve lo consiglio di metterlo per esempio molto alto come cavallo e quando invece il bambino cresce tiriamo giù le bretelle lo usiamo come un semplice pantalone bene vi aspetto in negozio così potete visionare tutte le mie proposte maschio e femmina rigate per la stagione autunnale ciao buona giornata a tutti